Il film che ha commosso il pubblico dell'ultimo festival di Venezia, la straordinaria storia di un uomo ordinario che vi farà tornare bambini, un sogno ad occhi aperti che toccherà le corde più profonde della vostra anima, un incanto per gli occhi e per il cuore. Grazie a tutti. 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 Il venditore di palloncini Da gennaio al cinema Grazie a tutti. Grazie a tutti.